Cittadini di Bortaneto, siamo qua per ricordarvi che questa valla intenderà un cantiere nei prossimi 10 anni. Sono previsti 350.000 tir che circoleranno per la gronda e saranno previsti 200.000 per i cantiere della Tav. A tutto questo ci aggiungerà un asco trasportatore che porterà 200 milioni del terreno con presenza in straccia di amianto di Dottor Migliano. Non è vera buttata in mare, oltre le grosse che sono a Polizia. Informatemi, non siamo quasi informati, perché nessuno di Italia non mi viste. All'inizio di Bortaneto non è riuscito a niente, i canti si fanno saltare e non ha detto che la gronda non serve a niente. Il minore soldi è grafico, il verbo è pronto così per l'edizio. E così, che volerà molto in più, si è vero in fattato speciale e inizio per la popolazione di Dottor Migliano rispetto a quello che servirà. Iniziamo tutto la esperto dei nostri raggi, aängli passiamo fuori per la popolazione di Dottor Migliano rispetto a noi. E' un' と l'accompagna di Dottor Migliano rispetto a noi.